Ah! Sicura che sia di qua? Così pare. Aspetti. Aspetti. Sì. Via da lì! Cazzo! Ti è piaciuto, eh? Alligatore del cazzo. Leon, di qua! Cosa diavolo è? Muoviti a salire! Ti avevo avvisato. Aveva detto che il virus trasforma le persone in mostre, non i rettili. Tu, Shay. Sono sorpresa tu sia ancora in casa. Non riesco a capire, la Umbrella, a chi vende mostri del cielo? Al nostro esercito? Ad altri stati? Non vendono mostri, vendono i virus che li creano. Le Annette li sa realizzare. E quella donna è molto più pericolosa di quell'alligatore. Cosa di eventualmente si fatta le indagini? Ci si ricacini? Ah... Ah... Non vincere la sua rosa. Chi si fa? Non vincere la sua rosa. Non vincere la sua rosa. No vincere la sua rosa. E' di sicuro Ferma, dove sei? Annette Birkin Stava cercando lei? Non c'è più tempo Devo sbarazzarmene Siamo qui per il virus G Puoi scordartelo L'avverto, dottoressa Ah, sì? Ehi! Ferma! Non avrete mai il virus G! Non sembra la tipica scienziata Leon Non pensi a me Lei vada La fermi prima che scappi Sono fuori dalla struttura In segua Annette Se non ce l'ha lei Sarà nel nest Una volta preso Ordinerò l'estrazione Non pensi a me Che per il virus Cosi a me Sono raff Joseph C'è un problema